Sono partito ora dalla stazione di Lierna, partito ora, sponda le chiese il lago di Como, ecco la prossima fermata è Olcio, Olcio sono io, il sottoscritto, sono qua in treno da solo, è bellissimo questo treno nuovo, non c'è neanche una persona, anzi solo due bambini, guarda la prossima fermata è Olcio, tra poco vi faccio vedere la parte dove fa villa l'occhio, dove l'occhio umano rende lucido la pupilla dell'essere, che io convivo con questo stato naturalistico come il lago maggiore, no, il lago di Como, direi proprio il lago di Como, la sponda le chiese, Stare attento a quel che si dice, quel che si impara e si vorrebbe dire che tutto fosse bello ma ogni individuo ha la sua facoltà di scegliere, purtroppo vivendo sceglie il meglio che per lui potrebbe stare nella sua personalità. Ecco la faccia al lago di Como, la sponda le chiese, tra poco si vede il lago, sono in treno, attimi di suspense, di suspense, ho passato la stazione di Lierna e tra poco pare nell'occhio visivo la piccola fermata di Olcio, la stazione da me pure amata e devo dire che io viaggio, viaggio perché mi piace sapere, conoscere le varie località che esistono in Lombardia, ma però vi di più vi dico la zona mia più amata è sempre quella da Lecco verso la Valtellina, la Val Chiavenna, ecco l'oscurità della mia vita, l'ombra qua della galleria ma tra poco appare in me una fulgida idea lampante di luce, di luce che dà vita al mio essere per risperchiarmi poi nella parte lacustre del lago di Como, ecco galleria, luce, la luce di me stesso e vedo rispecchiati posti vuoti nel treno nel finestrino dell'ombra ma tra poco appare, appare dopo questa bella galleria un paesino denominato Olcio ecco spettatori, ecco ecco guarda guarda che bello, guarda che bello, qui sono arrivato a destinazione a raccogliere un mio amico che sale esattamente ad Olcio guardate qua, ecco l'annuncio siamo in arrivo a Olcio, attenzione, a causa della limitata lunghezza del parciapiede utilizzate per la discesa dal treno le porte delle prime vetture di testa adesso vi faccio vedere l'orto mio, cioè di Marco esattamente, a Olcio, eccolo qua l'orto eccolo qua, eccolo qua l'orto l'orto è qua, e il mio amico è salito poi, non lo vedo, non lo vedo, ma dove sarà, dove sarà quel Luigi che abita nella città più bella del mondo dove sarà, dove sarà, Luigi, Luigi, eccolo qua che arriva, eccolo Luigi di, chi abita nella città più bella del mondo ecco Luigi che abita nella città più bella del mondo, Ro, Ro, è venuto a fare il bagno però a Dolcio grazie grazie grazie